Buonasera, siamo qui a Frignano, sono il professor Macinesi, eccolo qua, il primo video di questa ora, ma guarda, buonasera, si mangiamo? E' bello, solo per lui, qui a Frignano, di bu, tabacchi, di abeles, caffè, qui a Frignano, e con la Weekend Ends, contatto televisione di Paranis, ragazzi, allora dico buon sabato a tutti, buon sabato, anche disperati, siamo sempre alla grande, un saluto a tutti quanti da Frignano, ragazzi, ora la vedete un po' muscia, ma questa è una belva, quanto si arrabbia, quando vi martella, quando vi scassa, quando vuole giudicare, non è lei, non è voi, ma è la nostra Cinesina, Buonasera, voi la vedete un po' tempo, aspettate dopo l'uno e mezza, due, che ci blindiamo, siamo un po' blindati, stando un po' blindati, noi affattiamo meglio, ok? E se io posso cambiare, e voi potete cambiare, tutto qua, ci resisti, allora ci diciamo al popolo, o ci facciamo come a me, o non ci facciamo come a me, O non ci, allora facciamo starving, non ci facciamo come a me, va bene? Salutiamo Adiu' Ciao, il nostro motto, solo per numero 1, Adiu, Grazie a tutti